Dieci successori Echido era diventato un insegnante severo. I suoi allievi lo temevano. Un discepolo che era di servizio, nel battere il gong per annunciare l'ora, sbagliò i rintocchi perché il suo sguardo fu attratto da una bella ragazza che passava davanti al cancello del tempio. Immediatamente Echido, che stava proprio alle sue spalle, lo percosse con un bastone e quel colpo uccise l'allievo. Il tutore dell'allievo, informato dell'incidente, andò subito da Echido. Rendendosi conto che il maestro non aveva nessuna colpa, lo elogiò per la sua severità. Il contegno di Echido era esattamente quello di sempre, come se l'allievo fosse ancora vivo. Dopo che accadde questo episodio, si formarono sotto la sua guida più di dieci successori illuminati, che è un numero molto fuori dal comune. La vera riforma Ryokan votò la propria vita allo studio dello Zen. Un giorno venne a sapere che suo nipote, nonostante i rimproveri dei parenti, sperperava il proprio denaro per una cortigiana. Poiché questo nipote amministrava i beni della famiglia, al posto di Ryokan, e c'era pericolo che dilapidasse la loro fortuna, i parenti chiesero a Ryokan di intervenire. Ryokan doveva intraprendere un lungo viaggio per visitare il nipote, che non vedeva da anni. Il nipote parve contento di rivedere lo zio, e lo invitò a passare la notte in casa sua. Ryokan rimase in meditazione tutta la notte. La mattina dopo, mentre stava per partire, disse al giovane «Evidentemente sto invecchiando, perché mi trema la mano. Vuoi aiutarmi a legare il laccio del mio sandalo?» Il nipote lo aiutò volentieri. «Grazie», disse Ryokan. «Vedi, un uomo diventa più vecchio e più debole di giorno in giorno. Abbi cura di te». Poi se ne andò, senza nemmeno far cenno alla cortigiana o alle lamentelle dei parenti. Ma da quella mattina, il nipote smise di far vita dissoluta. Collera Uno studente di Zen andò da Bankei e gli espose un suo problema. «Maestro, io ho certe collere irrefrenabili. Come posso guarirne?» «Hai qualcosa di molto strano, davvero?» disse Bankei. «Fammi dunque vedere di che si tratta». «Beh, così su due piedi non posso fartelo vedere», espose l'altro. «Quando potrai farmelo vedere?» domandò Bankei. «Salta fuori quando meno me lo aspetto», rispose lo studente. «Allora, concluse Bankei, non deve essere la tua vera natura. Se lo fosse potresti mostrarmelo in qualunque momento. Quando sei nato non l'avevi e non te l'hanno dato i tuoi genitori. Pensaci un po' sopra». La mente di pietra Hogen, un insegnante cinese di Zen, viveva tutto solo in un piccolo tempio in campagna. Un giorno arrivarono quattro monaci girovaghi e gli chiesero se potevano accendere un fuoco nel suo cortile per scaldarsi. Mentre stavano preparando la legna, Hogen li sentì discutere sulla soggettività e sull'oggettività. Andò loro accanto e disse «Ecco questa grossa pietra. Secondo voi, è dentro o fuori della nostra mente?» Uno dei monaci rispose «Dal punto di vista del buddismo, tutto è un'oggettivazione della mente. Perciò direi che la pietra è nella mia mente». «Devi sentirti la testa molto pesante», osservò Hogen, se te ne vai in giro portandoti nella mente una pietra come questa. Nessun legame con la polvere Zen Getsu, un maestro cinese della dinastia Tang, scrisse per i suoi allievi i seguenti consigli. «Vivere nel mondo e tuttavia non stringere legami con la polvere del mondo è la linea di condotta di un vero studente di Zen. Quando assisti alla buona azione di un altro, esortati a seguire il suo esempio. Nell'aver notizia dell'errore di un altro, raccomandati di non imitarlo. Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Esprimi i tuoi sentimenti, ma non diventare più espansivo di quanto la tua vera natura ti detti. La povertà è il tuo tesoro, non barattarla mai con una vita agiata. Una persona può sembrare sciocca e tuttavia non esserlo. Può darsi che stia solo proteggendo con cura il suo discernimento. Le virtù sono i frutti dell'autodisciplina e non cadono dal cielo da sole, come la pioggia o la neve. La modestia è il fondamento di tutte le virtù. Lascia che i tuoi vicini ti scoprano prima che tu ti sia rivelato. Un cuore nobile non si mette mai in mostra. Le sue parole sono come gemme preziose, sfoggiate raramente e di grande valore. Per uno studente sincero, ogni giorno è un giorno fortunato. Il tempo passa, ma lui non resta mai indietro. Né la gloria, né l'infamia possono commuoverlo. Critica te stesso. Non criticare mai gli altri. Non discutere di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Alcune cose, benché giuste, furono considerate sbagliate per intere generazioni. Poiché è possibile che il valore del giusto sia riconosciuto dopo molti secoli, non c'è alcun bisogno di pretendere un riconoscimento immediato. Vivi con un fine e lascia i risultati alla grande legge dell'universo. Trascorri ogni giorno in serena contemplazione. La vera prosperità Un uomo ricco chiese a Sengai di scrivergli qualche cosa per la continua prosperità della sua famiglia, così che si potesse custodirla come un tesoro di generazione in generazione. Sengai si fece dare un grande foglio di carta e scrisse Muore il padre, muore il figlio, muore il nipote. L'uomo ricco andò in collera Io ti avevo chiesto di scrivere qualcosa per la felicità della mia famiglia. Perché mi fai uno scherzo del genere? Non sto scherzando affatto, spiegò Sengai. Se prima che tu muoia dovesse morire tuo figlio, per te sarebbe un grande dolore. Se tuo nipote morisse prima di tuo figlio, ne avreste entrambi il cuore spezzato. Se la tua famiglia di generazione in generazione muore nell'ordine che ho detto, sarà il corso naturale della vita. Questa per me è la vera prosperità. L'incensiere Una donna di Nagasaki, una certa Akame, faceva parte dell'esigua schiera di fabbricanti di incensieri del Giappone. Questi incensieri sono opere d'arte da usarsi soltanto in una sala da tè o davanti a un reliquiario di famiglia. Akame, che era figlia di un uomo che era stato anche lui un artista, aveva il vizio di bere. Inoltre fumava e aveva continuamente rapporti con gli uomini. Non appena metteva insieme un po' di denaro, dava una festa alla quale invitava artisti, poeti, falegnami, operai, uomini di molte vocazioni e di molti mestieri. In loro compagnia elaborava i suoi disegni. Akame era lentissima nel creare, ma la sua opera, una volta finita, era sempre un campo lavoro. I suoi incensieri erano gelusamente custoditi in case dove le donne non bevevano, non fumavano e non si accompagnavano liberamente con gli uomini. Una volta il sindaco di Nagasaki pregò Akame di fare un incensiere per lui, ma lei rimandò il lavoro così a lungo che trascorsero quasi sei mesi. Allora il sindaco, che aveva ottenuto una carica in una città lontana, andò a trovare Akame e la sollecitò a darsi da fare per il suo incensiere. Venutale finalmente l'ispirazione, Akame fece l'incensiere. Dopo averlo finito, lo posò su un tavolo, lo guardò a lungo e attentamente, fumò e beve davanti all'oggetto come se esso costituisse tutta la sua compagnia di amici. Lo osservò per tutta la giornata. Infine, preso un martello, Akame lo ridusse in pezzi. Aveva visto che non era la creazione perfetta che la sua mente esigeva. Il vero miracolo Quando Bankei predicava nel tempio Ryomon, un prete, Shinshu, che credeva nella salvezza ottenuta ripetendo il nome del Buddha dell'amore, si ingelosì del suo vasto pubblico e volle discutere con lui. Bankei stava parlando, allorché comparve il prete, ma questo creò una tale confusione che Bankei si interruppe e domandò che cosa fosse tutto quel baccano. Il fondatore della nostra setta, si vantò il prete, aveva poteri così miracolosi che stando su una riva del fiume con un pennello in mano, riusciva a scrivere attraverso l'aria il sacro nome di Ameda su un foglio che un suo assistente reggeva sull'altra riva. Tu puoi fare questa cosa prodigiosa? Bankei rispose gaiamente. Forse questo gioco di prestigio può farlo la tua volpe, ma non è questo il modo dello zen. Il mio miracolo è che se ho fame, mangio, e se ho sete, bevo. Addormentati e basta Ghazan era seduto al capezzale di Tekizui tre giorni prima che il maestro morisse. Tekizui lo aveva già prescelto come proprio successore. Qualche tempo prima un tempio era bruciato e Ghazan stava facendo ricostruire l'edificio. Tekizui gli domandò che cosa farete quando il tempio sarà ricostruito? Quando ti sarai rimesso vogliamo che tu venga lì a fare un discorso disse Ghazan e se non vivrò sino allora faremo venire qualcun altro rispose Ghazan e se non troverete nessuno continuò Tekizui Ghazan rispose spazientito non fare domande così stupide addormentati e basta Niente esiste Quando era un giovane studente di Zen Yamaoka Tessu andava sempre a trovare tutti i maestri andò a far visita ad Okun di Shokoku volendo mostrare la sua preparazione disse La mente, Buddha e gli esseri senzienti in fondo non esistono La vera natura dei fenomeni è il vuoto Non c'è nessuna realizzazione nessuna illusione nessun saggio nessuna mediocrità Non c'è nessuno che dia e niente che si riceva Dokun che stava fumando in silenzio non fece commenti Tutto a un tratto colpì Yamaoka con la sua pipa di bambù Questo fece arrabbiare moltissimo il giovane Se niente esiste domandò Dokun da dove viene questa tua collera? Chi non lavora non mangia Yakuyo, il maestro cinese di Zen ancora all'età di 80 anni conservava l'abitudine di lavorare con i suoi allievi tenendo in ordine i giardini sarchiando il terreno e potando gli alberi Ai suoi allievi dispiaceva che il vecchio maestro faticasse tanto ma poiché sapevano che sarebbe stato inutile consigliargli di smettere gli nascosero gli attrezzi Quel giorno il maestro non volle mangiare non mangiò nemmeno l'indomani e nemmeno il giorno seguente Forse arrabbiato perché gli abbiamo nascosto gli attrezzi immaginarono gli allievi Sarà meglio che li rimettiamo al loro posto Così fecero e quel giorno stesso il maestro lavorò e mangiò come prima La sera li istruì Chi non lavora non mangia Veri amici Molto tempo fa in Cina c'erano due amici l'uno molto bravo a suonare l'arpa e l'altro molto bravo ad ascoltare Quando il primo suonava o cantava di una montagna il secondo diceva Vedo la montagna come se l'avessimo davanti Quando il primo suonava a proposito di un ruscello colui che ascoltava prorompeva Odo l'acqua che scorre Ma quello che ascoltava si ammalò e morì Il primo amico tagliò le corde della sua arpa e non suonò mai più Da allora tagliare le corde dell'arpa è sempre stato un segno di grande amicizia Tempo di morire Ikkyu il maestro di Zen era molto intelligente anche da bambino Il suo insegnante aveva una preziosa tazza da tè un oggetto antico e raro Sfortunatamente Ikkyu rupe questa tazza e ne fu molto imbarazzato Sentendo i passi dell'insegnante nascose i cocci della tazza dietro la schiena Quando comparve il maestro Ikkyu gli domandò Perché la gente deve morire? Questo è naturale spiegò il vecchio Ogni cosa deve morire e deve vivere per il tempo che le è destinato Ikkyu mostrando la tazza rotta disse Per la tua tazza era venuto il tempo di morire Grazie per la tua tazza Grazie per la tazza